Troglia, la soluzione ad ogni vostra esigenza. Efisio Cocco, allenatore del Vallorco. Domenica una bella vittoria, una convincente vittoria contro il quotato banchette. L'idea era quella di cercare di fare qualche punto, che siamo alla ricerca di punti. Poi domenica è capitato che ha funzionato tutta la perfezione. Massimo rispetto per il banchette, perché pur aver vinto bisogna riconoscere che l'avversario è più forte di noi. Abbiamo avuto la domenica perfetta. Una vittoria importante contro un quotato avversario, perché a voi servono punti importanti per la zona retrocessione. Ma sì, ma più che la vittoria con il banchette non voglio neanche sottolineare questa. Mi è piaciuta la prestazione. Penso di dire che debba essere la mentalità giusta per andare avanti. L'avversario, noi dobbiamo avere rispetto per tutti, abbiamo bisogno di punti, ce la metteremo tutta contro di tutti. Adesso vediamo. Diciamo che se questa è la mentalità, un passo in avanti l'abbiamo fatto. Un passo in avanti che ti servirà, perché domenica avete un altro derby, un'altra squadra importante, andate a Colleretto. Sicuramente. Anche in questo caso, mi ripeto, il rispetto per gli avversari è sempre la prima cosa. Il Colleretto è una squadra molto più quotata di noi, ha tutte le caratteristiche per far bene in questo campionato. Noi cercheremo di rendergli la vita sicuramente difficile. Ripeto, abbiamo bisogno di punti e andiamo convinti per riuscire a portare a casa qualcosa. Vediamo cosa succede. Fisio, hai ritrovato forse lo spirito dei tuoi ragazzi che ti hanno permesso di arrivare fin dove siete arrivati? Ma guarda, ti devo dire che la questione della prima categoria a noi non ha fatto molto bene. Nel senso che si è perso un po' di umiltà, cosa che predico ormai da decenni. Voglio dire decenni, forse è la parola giusta. Si è persa un attimino la sensazione della realtà e il fatto di doversi misurare con squadre più attrezzate di te, sicuramente più tecniche. Questo deve portarti a mettere delle cose che magari non hai, non puoi combattere alla pari contro di loro. Quindi la morale di oggi è meno tattica e più attributi.